Innanzitutto grazie per essere qui con noi questa sera, è la vostra prima volta a Cinema Zero, quindi un piacere darvi il benvenuto. Anche se immagino che avrete fatto una certa esperienza con gli esordi, questo immagino sia stato un anno abbastanza intenso. E vorrei partire un po' da lì, un po' dal racconto del vostro primo incontro con il film. Quando avete capito che eravate nel film di Sorrentino, che emozione avete provato e come sono stati i provini, l'avvicinamento a questa grande avventura? È stato un anno estremamente intenso e l'avvicinamento con questo film è stato dopo tantissimi provini e a ogni provino io sentivo di imparare qualcosa. Paolo mi regalava una parte in più del personaggio e della sua sceneggiatura meravigliosa e quindi a ogni provino mi innamoravo un po' di più di questa storia, di questa donna. che si chiama Partenope e che è nella sua città Napoli, che è appunto una città che ti regala tantissimo e ti può accogliere veramente come se fosse casa. Per voi? Com'è stato? Intanto quando avete capito che eravate stati scelti, che cosa avete provato? Che emozione c'è? E come sono andati i provini? Insomma, il primo incontro con Paolo? Beh, i tempi con Paolo sono sempre molto dilatati. Quando stavamo al provino ci ha messo un attimo prima di dirci che ci aveva preso. Un attimo che vi posso assicurare è durato tantissimo. E poi quando ho usato questo famoso, come dice Dario, condizionale, io vi avrei preso. Noi comunque siamo arrivati in line. Perché? Che cosa dobbiamo fare? E infatti poi ci ha detto, cosa ci ha detto Dario? Non siete contenti? Esatto. Sì, perché ci vedeva un po' così, un po' attoniti, con questo sguardo un po' perso. E dice, ma siete contenti, no? E noi abbiamo detto, sì, sì, lo siamo, dobbiamo un attimo metabolizzare, realizzare. Poi siamo usciti e ci abbiamo messo qualche mese prima di realizzare. E qualche shot di whisky che ci siamo fatti su alle quattro. Non vi stiamo dicendo di bere perché un po' l'alcol fa male, però comunque può aiutare. In quel momento era fisiologico, diciamo. Anche perché poi insomma siete entrati nel mondo, in questo mondo, nel mondo del cinema, decisamente dalla porta principale, insomma Paolo Sorrentino, premio Oscar. Avete condiviso il set con dei mostri sacri, sia del cinema italiano, penso Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, insomma, e anche internazionali, Gary Oldman. Com'è stata la vita sul set, l'esperienza sul set, appunto, di trovarsi così a recitare e a lavorare con loro? Ma è stato, penso che condividiamo tutti questa cosa, un viaggio vero e proprio in un mondo un po' a parte, che è proprio il mondo della visione dello sguardo di Sorrentino. Lavorare con questi mostri sacri è stato ovviamente emozionante e difficile, ma la cosa bella è che poi dopo scopri che sono esseri umani e che quindi, diciamo che, no, si smonta un po' quella grandezza che hanno, cioè rimane nell'arte, ma poi come esseri umani è bello sentire di far parte della stessa cosa e dello stesso progetto nello stesso modo. Quindi veramente in questo senso una grande famiglia, tutto il set, tutto questo viaggio, lavorare con loro, oppure è stato bello, abbiamo unito tanto e ecco. Dario, Daniele, confermate? Confermo. Completamente, tutto. Non si può smentire a parte. No, a parte smentire, no, è vero ragazzi, secondo me è molto importante essere dei buoni esseri umani se fai questo mestiere. E sono d'accordo con Celeste quando dice che questo film è un film non di una persona o di quelli che appaiono sullo schermo, è un film corale, è un film dove veramente c'erano più di 200 persone sul set che hanno lavorato veramente con tutto loro stessi e spesso ci si dimentica che dietro c'è una macchina così organica e meravigliosa. Paolo in questo è stato veramente, veramente, veramente grande. Uno come Fellini è proprio uno che si ricorda i nomi di tutti quanti sul set, ti fa sentire importante, diciamo, che se fai parte del suo progetto ti fa sentire parte del progetto. Questa è veramente, secondo me, una delle grandezze di Paolo. C'è stato qualche momento difficile, nel senso che poi, insomma, la lavorazione è stata lunga, magari, insomma, alcune scene, ci sono stati dei momenti più difficili o anche più facili, magari rispetto ad altre, anche rispetto a quelle che erano le vostre aspettative, insomma, di lavorare, appunto, in un set di queste dimensioni e con queste caratteristiche. Mi sento di dire che è quasi sempre difficile, cioè è stato molto spesso difficile, perché c'è una cosa che ho detto anche altre volte, lavorare con Paolo è molto facile e molto difficile allo stesso tempo per la stessa ragione, cioè per il fatto che lui ti mette a confronto, è costantemente a confronto, con la bellezza, con la bellezza, con la B maiuscola. E questa cosa qui, da un certo punto di vista, ti consola molto, la bellezza è contagiosa, quindi è facile lavorare nella bellezza, con grandi interpreti, in location meravigliose, con dei costumi splendidi, no? In un contesto come quello. Allo stesso tempo, però, stare di fronte alla bellezza, lasciarsi contagiare è un fatto difficile, ed entrare, cioè avere la consapevolezza di dover fare parte di qualcosa che ha una sorta di sua perfezione. A me viene in mente, per esempio, ah no, non posso spoilerare, cioè, non posso spoilerare, però è congiudizio. Il film finisce, che praticamente... No, 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 però posso dire questo, c'era un'immagine a un certo punto, io mi trovavo dietro alla macchina da presa e iniziava come una soggettiva, quindi la macchina da presa inquadrava qualcosa come se fosse un po' il mio sguardo, e poi io dovevo entrare. Poco prima di entrare nel campo, io vedevo dallo schermino l'immagine, no? Che il personaggio osservava e che la macchina da presa osservava. E guardare quell'immagine così perfetta, circoscritta in quel riquadro, che recitava così bene, anche senza di me, il pensiero che poi a un certo punto io sarei dovuto entrare lì dentro ed essere all'altezza di quell'immagine, di quella tenda, di quel vento, era una sensazione che ti attraversa, ti emoziona in positivo, ma anche con grande paura, ti spaventa molto. Credo che è una sensazione che ha attraversato gran parte dei nostri momenti sul set. Assolutamente d'accordo. Noi adesso stiamo facendo una cosa molto difficile, nel senso che stiamo parlando con un pubblico che non ha ancora visto il film, quindi non possiamo spoilerare, ci proviamo, ci proviamo. Se volete ve lo diciamo, però... No, possiamo andare troppo in là. Però come vi hanno raccontato il film all'inizio? Quali sono state le prime indicazioni con cui vi hanno raccontato Partenberg? Che è una storia che poi ruota, comunque questo possiamo anticiparlo molto, sulla bellezza, sulle varie declinazioni della bellezza e della felicità. Che cosa vi hanno detto all'inizio del film? A me è stato detto di analizzare e osservare molto la città di Napoli e quindi di trovare delle allegorie tra il personaggio mio e il personaggio di tutte le persone che hanno lavorato, gli attori, con delle facce della città di Napoli. Ed effettivamente mi ha aiutato molto, perché poi Napoli è una città che cambia sempre, sempre diversa, ricca e povera, a tutto. Ti sfugge, poi ti entra e quindi questo film vuole anche un po' raccontare queste sfumature di Napoli attraverso tutti i personaggi. E poi lavoro sulla libertà, sulla libertà dei personaggi, della storia e quindi anche della nostra recitazione. Cioè di non autogiudicarsi, cercare di essere spregiudicati, come poi lui è Partenope, lo sono altri personaggi e quindi andare verso quella direzione dell'osservazione libera, priva di giudizio. Sì, insomma, di giudizio. Beh, un po' c'è già inquadrato appunto il personaggio di... No, 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 ma è benissimo. Il personaggio di Partenope, che adesso, insomma, vedremo e vedranno sul grande schermo. E voi invece, Dario e Daniel, come inquadrereste, come presentereste il vostro personaggio di Sandrino di Raimondo? Allora, Sandrino lo definirei come il terzo elemento di un triangolo affettivo. È come una sorta di specchio nel quale i personaggi di Partenope e Raimondo possono guardare in faccia una sorta di testimone di un desiderio che in fondo a loro li chiama a gran voce. Sono stato abbastanza vago. Dario... Non è che è un applauso. No, bravo, bravo. Grazie. Bravo. Devi fare l'università per capire, dai. Vuoi aggiungere qualcosa? Ah, ragione. Sì, ma che ci sia una bella chimica fra voi tre anche come suddivisione delle cose. Eh sì, abbiamo mangiato, abbiamo fatto un sacco di cena insieme. Vi siete incontrati sul set? Vi conoscevate già prima? Avevate fatto qualcosa? Io e Dario ci conoscevamo prima un po' così di vista perché comunque più o meno l'ambiente è quello. Siamo a Roma, siamo stati a Roma, abbiamo studiato lì, quindi più o meno ci siamo incontrati in qualche sogno o realtà. Con Celeste pure ci eravamo incontrati sempre più o meno così, però insomma abbiamo legato proprio quando ci siamo trovati tutti e tre davanti a Paolo che ha fatto io vi avrei preso. Su questo vi siete guardati negli occhi. ma il condizionale è un verbo molto politico come verbo. E lui poi ci ha invitato e ha detto conoscetevi ci ha detto è stato un bel invieto. E di base abbiamo mangiato cose senza glutine perché Celeste a Napoli che era un'impresa impossibile questa forse è stata la parte allora più difficile sono di tutti. Decisamente. In realtà no perché Napoli è una città che ha un sacco di ristoranti senza glutine paradossalmente la pizza senza glutine la sfogliatella cioè alla fine ma c'è anche Caravaggio ragazzi ricordatevi no? Non è che andate là a mangiare sulla sfogliatella ci stanno un sacco di cose a Napoli. Sentite progetti per il futuro nel senso appunto stato il vostro esordio direttamente diciamo nella Serie A nel massimo campionato progetti sogni volete rimanere in questo mondo o lo considerate un momento di lo considerate un momento di passaggio magari per altri progetti per altre idee che avete se ci avete pensato. Come dice John Lennon ok ridete hai creato la scienza napoletana che tra in inganno sembri simpatico Come dice John Lennon la vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri piani pensateci direi che non potevamo avere chiusa migliore ma visto che insomma il loro viaggio il viaggio di Partenope è di fatto all'inizio il film è appena uscito in sala appunto e loro lo accompagneranno in molte tappe sono stati a Udine adesso se non ricordo male andrete a Treviso noi abbiamo pensato di darvi un piccolo regalo un piccolo pensiero per questo viaggio la nostra borsa di Cinema Zero con il nostro slogan grazie che è perfetto per voi e anche per John Lennon la fine del film ma grazie bellissimo adesso noi non vogliamo fare comparazioni però siete stati gli unici che ci hanno fatto questo ma non per parlare Dario sei veramente un ruffiano non scherzare e per essere precisi in realtà abbiamo oltre al vostro esordio c'è anche un altro esordio questa sera nel senso che è l'esordio di Piper Film che porta il suo primo film un applauso mi ringrazio Davide Novelli c'è una borsa anche per Davide visto Davide pure per te vieni qua Davide non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu rispetto appunto anche al percorso insomma che avete fatto con Partenope e che farete grazie Marco no sì nasce anche Piper Film che è una nuova distribuzione cinematografica che si occuperà di cinema italiano anche noi un po' come loro ci siamo ritrovati di fronte al maestro Sorrentino e a chiedergli se si fidava di noi per distribuirlo e ci ha dato credito e abbiamo fatto una campagna molto molto ampia il film è in 530 cinema ha avuto insomma io mi occupo di cinema italiano da un po' è una campagna di queste dimensioni l'ho vista raramente noi ci crediamo molto a me piace vedere che c'è una sala che va dai 20 ai 75 come età è esattamente quello che un film di Paolo può fare quando lui di solito ha sempre avuto dei protagonisti uomini di mezza età questa volta invece ha scelto tre ragazzi e quindi questo ci ha dato l'opportunità anche di giocare molto con la comunicazione verso i ragazzi e vedere una sala così mista è una bella cosa è un bel inizio quindi grazie al Cinema Zero e grazie a voi per essere qui grazie a tutti non dimentichiamo di dare ovviamente ai nostri ospiti anche la Cinema Zero Friend Card che è in qualche modo prendete quella giusta con i nomi giusti che è insomma il nostro simbolo anche di appartenenza a questo progetto di Cinema Zero grazie ancora grazie a tutti complimenti a voi e buona visione grazie grazie ciao buona serata buona visione grazie per venire al cinema ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti